Oggi, in questo video, affrontiamo una bella sfida. Dipingere i riflessi del metallo con i colori ad olio. Imitare il metallo può sembrare complesso, ma in realtà noi abbiamo molti toni di uno stesso colore che si avvicinano solo in modo strano ed imprevedibile. La cosa che noi dobbiamo fare con attenzione, come tutte le volte che dipingiamo dal vero, è osservare bene il nostro oggetto. Perché dipingere un oggetto vuol dire averne compreso il suo significato e la sua forma, come si comporta quell'oggetto nello spazio e come reagisce alla luce che determina i chiari e gli scuri che noi vediamo. Ho scelto questa oliera che ho da 40 anni e che ha questa forma semplice, a mio parere molto elegante, di un cilindro. L'ho anche scelta perché mi dà modo di parlare di un'invenzione prospettica che veniva fatta proprio utilizzando uno specchio a cilindro, l'anamorfosi cilindrica. Ed è per quello che io la dipingerò frontalmente, eludendone ed escludendone il manico. Vedremo quindi passo passo l'esecuzione di questo dipinto e tutte le difficoltà che si presenteranno e il modo di poterle superare. Io vi ringrazio moltissimo di tutta la stima e di tutto l'affetto che mi dimostrate con i vostri messaggi e tutti i suggerimenti che mi date, che prometto di tenerne conto e prima o poi ad uno ad uno riusciremo a fare un video e quelli saranno proprio gli argomenti dei nostri video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, di condividere il video sui vostri profili social e di commentare sotto la descrizione. Non mi resta che augurarvi una buona visione e darvi la buona giornata a tutte e a tutti. A presto! Dipingo sulla tela che mi è servita per fare il video sul verde blu ptalo. Vi ricordate? Questa preparazione che do a questo dipinto è formata da Bruno Van Dyck, terra verde e blu cobalto. Questa preparazione mi serve così opaca e con questo verde verdastro per riuscire ad avere un tono abbastanza basso, che dia però sul verde, non scuro, che dia sul blu, ad esempio, perché voglio creare sopra questo dipinto una superficie di sfondo rosa, un rosa carne abbastanza caldo, a dispetto dell'immagine che vedrete, che è un rosa un pochino più freddo e magari brillante, ma una piccola idea. Io l'ho voluto scaldare un pochettino facendo una mescola fra rosso di cadmio e bianco di titanio che state vedendo adesso. Ho pensato di mettere l'oliera, la foto dell'oliera, qua di fianco al dipinto, perché io l'ho davanti e quindi la dipingo dal vero, ma è la stessa posizione, con la stessa luce che poi e che la vedete in ritratta nella fotografia. Quest'oliera è abbastanza carica di luce e quindi vedrete come io invece porterò il mio dipinto, mutuandolo dal vero, ad una caratteristica meno fotografica, ma più pittorica. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che cercherò non tanto di copiare l'immagine che ho di fianco, ma quanto di interpretare l'immagine che io ho davanti dal vero e cercare di scegliere quali sono i toni e le caratteristiche tonali che io voglio esaltare, voglio abbassare e quindi voglio rendere simili all'idea che ho io del dipinto che vado a fare. Quindi la prima cosa che faccio è disegnare, dipingere l'ingombro tirandolo fuori dallo sfondo rosa che sto facendo in questo momento. Facendo così io ho la possibilità di lavorare ai fianchi, sopra e sotto l'oliera per disegnarne il contorno e quindi assicurarmi che questa superficie possa riuscire a essere ciò che è determinato e che io voglio dipingere. Rosso di cadmio e terra d'ombra bruciata. E con questo io vado a dipingere l'interno dell'oliera, cercando di capire com'è che si svolgono i riflessi e perché si svolgono i riflessi in questo modo. Vedete, questo è uno specchio cilindrico, perché il fatto che sia di metallo non è di per sé interessante, ma per me è interessante il fatto che sia cilindrico. Perché dico che è interessante questo? Perché da un punto di vista prospettico ha un gioco stranissimo e particolare che fu usato molto in storia dell'arte e parliamo delle anamorfosi proprio circolari, anamorfosi cilindriche, che erano una pratica della prospettiva e della rappresentazione pittorica, che aveva una sviluppo, che aveva cominciato ad avere uno sviluppo, diciamo, dal 1400 in avanti ed è presente in numerose, in numerosi dipinti e anche nella nostra vita quotidiana. Non l'anamorfosi cilindrica che vediamo in questo momento, oppure, che è meglio, che si può fare adoperando un cilindro a specchio. Cosa voglio dire? Voglio dire che il cilindro, vedete, ha una superficie che riflette la realtà, però ovviamente riflette la realtà in maniera distorta. Questa maniera distorta che ha di riflettere la realtà ha dato l'intuizione, ha fatto nascere l'intuizione, mentre qua sto mettendo del Bruno Van Dyck, che mi serve a disegnare e a dipingere il grigio all'interno dell'oliera, quindi non con il nero di Marte, ma con il Bruno Van Dyck. Poi vedremo che il nero lo adopereremo. Dicevo, per riprendere il discorso, che questa superficie riflette in maniera deformata quello che ha intorno. Allora si sono detti, ma perché non riuscire a fare dei dipinti deformati in modo tale che, mettendo un cilindro di vetro, di specchio, in mezzo a questi dipinti, si riflettano nella maniera giusta. Adesso vi faccio vedere un dipinto che sta nel Museo di Storia di Basilea e di Hans Heinrich Glaser del 1650. Ecco, vedete, in questo dipinto il pittore riesce, con una tecnica prospettica e matematica raffinatissima, a costruire una deformazione intorno allo specchio, per cui, se lo specchio cilindrico viene messo in determinato punto, riflette l'immagine, non distorta, ma che viene letta da noi nel verso più naturale, e quindi riconoscibile nei due personaggi che vediamo. E quindi, ritornando al nostro oggetto, l'oliera, l'oliera non fa che trasmetterci un'immagine completamente distorta della realtà nella maniera inversa a quella che fa un'anamorfosi cilindrica. Quindi noi abbiamo questa deformazione all'interno dell'oliera. Ovviamente le anamorfosi erano di due tipi, anzi di tre tipi. Ce n'era una conica in cui proprio si metteva invece che il cilindro un cono, in modo che noi dall'alto riuscivamo a vedere, in mezzo a questo cono, il disegno circolare completamente esatto e diritto, che veniva rimbalzato dall'esterno verso l'interno, perché veniva specularmente racchiuso dentro il cono. Vi invito ad andare su Google e a cercare anamorfosi conica e anamorfosi cilindrica, perché vedrete delle cose straordinarie. Me ne ricordo una di Piola, anamorfosi, che sta nel Museo di Rouen, di Belle Arti di Rouen, bellissima, che è un'anamorfosi circolare. Ovviamente tutte, tutte queste illusioni prospettiche hanno una derivazione, che è quella della mancanza o della possibilità del nostro occhio di vedere in un certo modo, e quindi anche di vedere qualsiasi illusione che, rispetto alla realtà, ci viene presentata in una forma particolare, per cui il nostro occhio viene ingannato. Anche io, in questo momento, sto cercando di ingannare con un'illusione ottica, o un'illusione proprio di carattere grafico, facendovi credere che quello che avete davanti è un'oliera, mentre in realtà è solo il dipinto di un'oliera. Ma, ovviamente, con l'anamorfosi e con le illusioni ottiche, noi andiamo al di là, e veramente riusciamo ad ingannare l'occhio. Non so se voi avete presente il corridoio accolonnato che c'è a Palazzo Spada, dove il Borromini è riuscito ad ingannarci e a farci credere che questo collennato, questo corridoio, sia molto lungo in realtà e molto breve. Come ha fatto ad ingannarci? Ha ridotto la dimensione delle colonne, per cui noi percepiamo il lontano e non osserviamo e non vediamo che, invece, è piccolo. E quindi pensiamo che questa uscita che state vedendo in questo momento, laggiù in fondo, sia lontana. In realtà non è così, perché è una finzione prospettica data dalla riduzione della dimensione delle colonne, in maniera proprio ravvicinata, ravvicinatissima. Poi, vi sono moltissimi esempi di anamorfosi. Una molto celebre è quella degli ambasciatori di Holbein, alla National Gallery, dove noi vediamo questi due personaggi, che sono uno di fianco all'altro, vediamo una striscia deformata, che li attraversa in basso, in maniera diagonale, in diagonale. E noi, attraverso un foro, alla sinistra di loro, noi possiamo guardare dentro queste immagini e noi vediamo, perché noi possiamo guardare di scorcio, vediamo un teschio. Quindi, quella immagine allungata, se vista di scorcio e accorciata, ci ritorna a noi come l'immagine di un teschio. È una cosa molto interessante, che anche questa vi invito a guardarla su Google, perché, ovviamente, queste immagini sono protette da copyright e ce ne sono mai tante ed è così facile andarle a trovare, che vi invito assolutamente a farlo. Ma noi anche nella vita di tutti i giorni incontriamo delle anamorfosi e soprattutto le incontriamo quando guidiamo. Ad esempio, tutte le scritte che sono sulla strada, le scritte di stop, oppure tutte le scritte, ad esempio, non so se avete fatto caso, quando andate in prossimità di una scuola e vedete un triangolo con due bambini che attraversano la strada proprio disegnato per terra. Ovviamente, se voi andate sopra questo triangolo, vedete molto allungato, ma in realtà, quando voi state per arrivare con la macchina, il triangolo diventa proprio quasi verticale e voi potete vedere chiaramente l'immagine dei due bambini. Questo è un esempio, ma tutte le scritte che noi vediamo in maniera allungata, quando ci siamo sopra, ovviamente, dalla macchina quando arriviamo le vediamo piccole, perché se fossero scritte piccole, come noi le vediamo in verticale, noi dalla macchina quando arriviamo non potremmo leggerle. E così tutte le immagini che vengono messe ad una certa altezza. Ad esempio, le colonne del partenone, per fare un esempio spicciolo, ovviamente ci sembrano tutte parallele. Perché? Perché ovviamente guardandole da sotto, noi non vediamo che le colonne sopra sono più larghe della base. Questo perché per farci percepire tutte le colonne grandi allo stesso modo. Ce ne sono tantissime di queste illusioni. Magari potremmo anche dedicare un video a parte a questo, badando bene di trovare le immagini proprio per farle osservare. Però, la cosa interessante che a me piaceva mettere sul tavolo, è il fatto stesso che, ad un certo punto nella storia dell'arte, le persone hanno cominciato a vedere i dipinti in maniera completamente diversa. E cioè, come noi facciamo oggi. E cioè, hanno detto ad un certo punto alle persone che dovevano stare in un determinato punto, per poter vedere bene un dipinto. Addirittura, la Trinità di Masaccio, in Santa Maria Novella, ha proprio un'indicazione, un punto, proprio fatto da coloro che hanno messo il dipinto, come a dire, voi da qui, da questo punto, potete vedere bene la prospettiva centrale costruita da Masaccio e avete l'illusione proprio perfetta di ciò che andate a vedere. Tutti i quadri, da un determinato momento in poi, soprattutto quelli che utilizzano la prospettiva centrale, vengono goduti meglio se noi ci posizioniamo nell'esatto punto in cui la corrispondenza della prospettiva ci può appagare da un punto di vista visivo. Prima della prospettiva centrale, anche se ovviamente tutti i dipinti erano, avevano una prospettiva e quindi avevano una direzione di vista, ma non da un punto di vista matematico, ma da un punto di vista simbolico. Quindi, paradossalmente, i dipinti di Giotto che noi vediamo nella cappella degli Scrovegni oppure ad Assisi, oppure altri cicli di affreschi medievali prima dell'invenzione della prospettiva centrale, è come se dovessero essere visti camminando. Quindi non c'era il punto, non era indicato dove dovevano mettersi le persone per guardare l'oggetto, ma lo guardavano passeggiando, perché il racconto era di narrazione proprio, era una narrazione che dovevano assolutamente assorbire andando verso una direzione. Invece, ad un certo punto ci si dice, dovete fermarvi qui, perché questo è il posto dove noi dobbiamo vedere un dipinto o un'immagine e questo ce lo portiamo dietro ancora oggi. Quando noi vediamo un dipinto del medioevo oppure un dipinto dell'alto medioevo o qualsiasi altro dipinto di qualsiasi altra civiltà, noi ci poniamo davanti ad esso. Ci poniamo davanti ad esso e ci fermiamo davanti ad esso perché così ci ha insegnato. Ci hanno insegnato nel 1400 quando hanno inventato la prospettiva centrale e poi di conseguenza tutti gli altri tipi di prospettiva. Adesso vedete che io qui nel dipinto ho usato il locra gialla, ho usato il nero di Marte e ho usato il Bruno Van Dyck, la terra d'omba bruciata, il rosso di cadmio e il bianco di titanio. Ovviamente la costruzione, la ricerca del dipinto non è tanto quello della coppia pedissequa che io ho davanti e quindi devo riuscire a trasformare e a mettere dentro il mio dipinto, come se dovessi copiare la fotografia. No, la mia sfida e il mio interesse è quello di riuscire a capire come funziona l'oggetto e quindi di cercare di andarci dentro e di riuscire a capire se io posso permettermi durante questa sessione di dipinto di potermi, di poter fare alcune modifiche a ciò che io sto vedendo, oppure a cercare di cambiare la tonalità, di cambiare l'intensità del colore, però sempre mantenendo la corrispondenza e la comprensione dell'oggetto che ho davanti. Quindi questo lavoro è un lavoro di ricerca e questa ricerca viene fatta anche dipingendo. Ci sono state persone che mi hanno giustamente detto che io vado a tentativi sul dipinto e quindi sembra quasi che io non sia sicuro quando dipingo, ma non sono sicuro perché in quel momento sto cercando di comprendere quello che è davanti. Quindi è come se io lo ricostruissi mentre dipingo. Quando dipingete non datevi pena se quello che fate subito non funziona, perché la costruzione di un dipinto è complessiva e quindi non è, tra virgolette, bello subito, ma diventa soddisfacente quando è il risultato di un metodo. E il metodo che io adesso vi sto sto applicando a questo, a questo dipinto, è quello di cercare di avanzare con i toni e di affondare negli scuri piano piano. E quindi la ricerca è sempre quella di essere più cauti possibili e di non subito arrivare al colore finale, ma arrivandoci tono dopo tono. E quindi, di conseguenza, arriva anche la costruzione della forma. Quindi, ecco, noi da bravi occidentali ovviamente ci mettiamo davanti al dipinto. Ci mettiamo davanti al dipinto e non ci preoccupiamo di quello che c'è dietro o di quello che c'è sopra o di quello che c'è di lato. La cosa fondamentale che noi dobbiamo vedere è il soggetto. E quindi, attraverso la prospettiva centrale o la prospettiva accidentale, quella formata da due punti di fuga, io posso osservare la realtà che è dentro il dipinto, perché io vedo in questo modo. Quindi la mia visione prospettica binoculare io l'ho trasferita oggettivamente sul dipinto. E quindi perché delle volte non ci quadrano certi dipinti? Perché magari non vanno dietro a questa legge o ne scompaginano le regole. E quindi noi non riusciamo a capire perché. Ad esempio pensiamo ai quadri di De Chirico oppure a certe a certe estremizzazioni prospettiche di Ernst o di altri. A un certo punto ovviamente nel novecento arriva la possibilità di trasformare la realtà non attraverso quella che è la definizione meccanica e quindi prospettica e quindi architettonica del dipinto o dell'oggetto che viene messo dentro il dipinto, ma l'oggetto si trasforma, si distorce, si modifica e quindi si apre a nuove si potrebbe dire prospettive. Ecco, una cosa fondamentale che sto facendo adesso è la definizione di quella riga di bianco del tappo dell'oliera. Sembra una cosa banale, però è fondamentale perché mi ha fatto capire come la chiusura in quel momento dell'oliera non andava, per risultare credibile, non andava verso l'oscuro, come io mi sarei immaginato facendo magari l'ombra del coperchio sotto, ma esaltando quello che è il chiaro del riflesso sul coperchio appunto che chiude. Questo soggetto è interessante perché proprio dà la possibilità di un'interazione forte fra ciò che è all'esterno e ciò che è all'interno dell'oggetto, perché ciò che all'esterno va dentro l'oggetto, si riflette nell'oggetto e quindi il gioco di chiari e di scuri, permette, oltre che a dipingere il riflesso, permette proprio una quasi, un legame indissolubile e straordinariamente interessante dal punto di vista tonale, fra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro. Questa mia ricerca della comprensione dell'oggetto mi ha fatto pensare molto alla grande possibilità che noi abbiamo di indagine su ciò che vediamo, se non ci rimettiamo alla copiatura pedissequa di quello che abbiamo davanti. cioè dobbiamo cercare di capire come arrivare a quel risultato e se il risultato che noi vogliamo ottenere è la comprensione di quell'oggetto, allora è lì che abbiamo capito perché noi dobbiamo dipingere, e abbiamo capito perché è importante farlo. È importante farlo perché la pittura ci dà la possibilità di queste indagini sul reale, sul reale, e magari anche sul reale, perché no. E non mi stancherò mai, appunto, di dirlo, che la pittura del reale è la più indicata per riuscire a farci crescere, e a darci la possibilità di trasformare le nostre conoscenze ed evolverci perché, nel momento in cui affrontiamo un problema, che è quello di ricostruire un tono, di ricostruire un'ombra, di costruire un oggetto, andiamo davanti a delle scelte, che sono quelle dei colori, dei toni e del disegno, che fanno il conto con ciò che abbiamo davanti, che se noi ci spostiamo di pochissimi millimetri, riusciamo anche a vedere quello che c'è dietro. E noi, vedendo quello che c'è dietro, riusciamo a capire perché possiamo fare l'immagine che noi abbiamo davanti. diventa una ricerca completa. Se invece noi non abbiamo altro che la fotografia, possiamo sì ricavarne un dipinto, facendo attenzione alle stesse cose di cui faremo attenzione se lo vedessimo dal vero. Quindi dobbiamo cercare proprio di avere un rapporto, come se l'opera fosse reale. Ma se invece noi andiamo e ci accontentiamo, perché diamo alla fotografia la paternità del vero e del bello. E quindi pensiamo di prendere quell'oggetto lì e trasformarlo pedissequamente sulla tela. In quel momento lì non compiamo un grande servizio ai nostri occhi, alla nostra mano e alla nostra pratica. In quel momento lì abdichiamo nei confronti della possibilità di una evoluzione, da un punto di vista pittorico e rappresentativo. Ovviamente lo spettatore potrà barcamenarsi sulla definizione questo quadro è bello perché sembra una foto, oppure questa foto sembra un quadro. No, sono due cose che hanno una dignità propria e devono restare assolutamente divise e separate, fin tanto che il pittore non si renda conto che la pittura gli serve sia come indagine del vero, ma anche per riuscire a trovare uno stile proprio, personale, per riuscire ad andare oltre e a cambiare, modificare, rendere quell'oggetto personale. E far dire a una persona che guarda questo l'ha dipinto lui, perché dentro c'è la nostra firma. Questo esercizio che faccio in questo momento è un esercizio quasi propedeutico alla possibilità di cambiare poi le regole. perché io quando conosco e ho la possibilità di dipingere e di scegliere quali sono i chiari e gli scuri che è preferibile mettere, in quel momento io posso anche continuare al di là del dipinto stesso. ovviamente potrà diventare un'altra cosa, ma quando io ne ho capito il senso, ecco allora in questo momento io posso andare al di là e riuscire a costruire qualcosa di particolare e personale. Al di là del fatto fotografico o meno o del reale o di riproduzione del reale, io in maniera poco forse presuntuosa, penso di riuscire anche in questo caso a dare la possibilità di interpretarlo come un mio lavoro. perché ne riconosco la pennellata, perché cerco di farle riconoscere il modo di operare e quindi di una mia particolare ricerca e indagine su quello che ho davanti. è questo che io cerco di dirvi e vi prego di fare. anche se costerà magari più fatica, anche se non sarà subito così d'impatto e quindi non avrà una rispondenza così eclatante ai vostri occhi, ma vedrete che col tempo questo pagherà, perché voi avrete un bagaglio in più e la possibilità di ricostruire la vostra realtà. Quindi, ritornando anche a prima, la costruzione dell'immagine è sempre un'illusione. Questi specchi particolari ci danno la possibilità di capire quanto la matematica e la scienza possa entrare dentro l'arte, e quanto la prospettiva è riuscita a entrare, appunto, e a ritagliarsi un ruolo fondamentale. Lo abbiamo visto la volta scorsa quando parlavamo di Andrea Pozzo, quando parlavamo dei quadratoristi, quando parlavamo di quelle persone che con la prospettiva ci fanno illudere che il tetto sia costruito in maniera completamente diversa, e quindi riescono a buccare le nostre pareti e a farci andare al di là, proprio con queste semplicissime ma ferree regole matematiche. E quindi la regola, anche da un punto di vista pittorico, adesso, per esempio, se io faccio una riga netta alla base del cilindro, la rispondenza che io ne avrò sarà quella di una figura ritagliata. Mentre se io faccio la linea scura e ai bordi vi lascio un pochino di penombra, la risultanza che i nostri avranno sarà sì di morbidezza, ma soprattutto di spessore, di qualità della forma. Cioè la forma diventerà più, si concretizzerà in una apparenza che ce la restituirà molto credibile. L'occhio fondamentalmente non ha bisogno di superfici definite in maniera netta, rigida, perché noi non vediamo così, non percepiamo la realtà con delle linee nette e rette. Se voi guardate un'immagine, una fotografia, vedete subito delle rette, delle linee ben precise, dite questa fotografia è stata fatta a fuoco, ma noi non vediamo mai perfettamente a fuoco gli oggetti. Cioè abbiamo sempre nei bordi quelle linee che Cezanne ha saputo raccontarci e ben descriverci. Cioè l'oggetto ha tante linee che lo contengono. E quando noi dipingiamo un oggetto, i contorni, i suoi contorni più morbidi, diciamo, appaiono e più sono slegati da quella che è un'interpretazione fotografica e legati a quello che è un'interpretazione ottica. dell'immagine che noi abbiamo davanti. Quest'oliera ha 40 anni, quindi è da quando avevo 20 anni che la vedo. Per me era un oggetto bellissimo. Come vi ho fatto vedere nella presentazione, ha un manico che ovviamente qua è coperto ed è per quello che l'ombra continua ancora molto dietro, perché mi fa percepire che lì dietro c'è un manico. Quest'oliera, dicevo, è sempre stata presente ed è l'unico oggetto che io ho di metallo in questa casa. E quando mi è stato chiesto se potevo dipingere qualcosa di metallico, mi è subito venuto in mente questo oggetto e ho subito accettato questo bellissimo suggerimento che è venuto da uno di voi. e l'ho presentato in questo video. Per esempio, una scelta che faccio è quella di non andare a calcare sui bianchi. Non mi interessa che questa oliera sia così riflettente come quella che vedete nella fotografia. Preferisco che sia come quella che vedo io davanti ai miei occhi, che non ha questo riflesso grossissimo e illuminato della lampada, ma resti più legata a una dimensione più reale e quindi, spero, meno fotografica. Ovviamente, un poco di luce va messa, però non così splendente come nell'immagine che vedete a lato, ovviamente. Moltissimi sono gli argomenti e moltissime sono le suggestioni che mi lasciate nei commenti. Io prendo nota di tutte, di tutte, proprio di tutte, credetemi, e a poco a poco cerco e spero di riuscire a rispondere a tutte le vostre esigenze e a tutte le vostre suggestioni. Un'altra cosa, se avete delle immagini da farmi vedere o dei lavori su cui volete un mio parere, non esitate a mandarmeli. Io, a poco a poco, risponderò a tutti e a tutte. Potete farlo mandandomeli a questo indirizzo, email, repetti.albertochiocciolagmail.com. Mi piacerebbe, poi, fare una live parlando della composizione dei dipinti, di vedere come i pittori hanno scelto di comporre i loro dipinti, perché è fondamentale. È fondamentale, oltre al disegno, oltre al soggetto, è fondamentale anche poter e saper comporlo dentro un'immagine che non abbia degli squilibri e sia appunto regolata attraverso delle linee diagonali e orizzontali che hanno la capacità di tenere insieme un dipinto. Vedremo se si potrà fare già questo martedì. Vi ringrazio, vi ringrazio davvero tantissimo, tutti e tutte quante, per la stima e l'affetto che mi state dimostrando. Inutile che vi dica di iscrivervi al canale, perché lo faccio veramente di cuore, perché siamo un grande gruppo e stiamo crescendo. E questo mi fa molto piacere, perché c'è molta condivisione e molta partecipazione. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, condividete il video nei vostri profili social e commentate, come state facendo sotto la descrizione. Non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon fine settimana a tutti e a tutte e darvi un arrivederci. A presto.